Il prossimo brano che andremo ad ascoltare è Tre Episodi, anch'esso creatura del nostro docente Lorenzo Cuscello. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il secondo tempo in diretto dal corsista Sgambelluri Salvatore. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Il primo tempo in diretto dal corsista Davide Divendra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.